A due anni e mezzo dalla Costituzione, a Venafro l'Associazione Culturale Cetera prosegue l'attività nel solco del proprio obiettivo fondativo, ovvero la cura e l'allestimento di iniziative tese alla promozione culturale e alla valorizzazione del talento che altrimenti rimarrebbe celato in un territorio, quello molisano, troppo spesso dimenticato e per questo sottovalutato. Al presidente del Sodalizio, Francesco Giampietri, l'onere di tracciare un sia pur sintetico bilancio dell'attività fin qui svolta. L'Associazione è attiva dal gennaio 2015 e negli ultimi due anni e mezzo ha costruito numerose iniziative con la partecipazione anche di personalità di primo piano della scena culturale e sociale italiana, aprendosi ad un pubblico variegato composto per lo più di giovani. Questo dato incoraggia molto l'impegno anche perché conferma che in provincia è possibile fare cultura intercettando energie positive che necessitano di spazi di incontro e di manifestazione. Qual è il riscontro sul territorio tra la gente? Il riscontro è duplice. Il primo si lega alla partecipazione giovanile. L'associazione è composta da numerosi adolescenti e giovanissimi per lo più talentuosi e brillanti e la seconda si lega all'incontro con personalità importanti, come dicevo. Aver portato a Venafro personalità di primo piano della cultura italiana come Valerio Magrelli, Renzo Paris, Elio Pecora e anche personalità del mondo sociale come l'imam di Napoli, ed è stata una scelta per certi versi audace quella del settembre dell'anno scorso, rappresenta un riscontro e un incoraggiamento ad andare oltre. A proposito di riscontri, quello con le istituzioni? Dunque, un'associazione non può non tentare un dialogo con le istituzioni per avere anche un supporto logistico ed organizzativo. Da due anni le iniziative estive dell'associazione rientrano nel cartellone dell'estate venafrana, quindi beneficiano del patrocinio sia del comune sia della provincia di Isernia. Poi chiaramente l'associazione necessita anche della benevolenza di mecenati privati perché altrimenti non disporrebbe delle risorse per poter creare le varie iniziative. A proposito di iniziative, quali le prossime? Domenica prossima è prevista la terza edizione della Notte della Poesia, proprio in questa bellissima piazzetta nella quale ci troviamo. È un appuntamento molto importante che esprime compiutamente lo spirito dell'associazione perché avviene in un luogo aperto, pubblico, in uno degli scenari più belli della città con un ospite d'eccezione. Antonio Veneziani, infatti, è considerato una delle manifestazioni più originali della poesia italiana contemporanea. Un autore beat, autenticamente maledetto, che saprà incuriosire il pubblico e anche dialogare magari con i più giovani.